Per la trama di Beautiful le anticipazioni americane suggeriscono che Bill prenderà di Meera Carter. Quest'ultimo giocherà con il fuoco andando contro il capo della Spencer Publications. Il padre di Liam e Wyatt è disposto a tutto pur di raggiungere quello che ora è il suo obiettivo. Riconquistare la più piccola delle sorelle Logan. Ormai da tempo, non si fida più del padre di suo figlio Will. Per l'ennesima volta, ha ceduto alla tentazione baciando Brooke e questo Katie non può non metterlo in conto. Tornato in libertà dopo essere stato in prigione con Liam, Bill è pronto a riprendere in mano la sua vita. Ma niente più come prima. La sua amata ex moglie non è più lì ad attendere un suo ritorno. Questa volta per lo Spencer sarà davvero dura trovare la soluzione giusta. Il motivo? La dolce Katie sembra trovare l'amore con un'altra persona. Carter. Anche lui sta soffrendo per una delusione d'amore. Ebbene. L'avvocato si ritrova triste e solo quando Queen sceglie di tornare con her. Katie e Carter si consolano a vicenda. Ma non sanno che devono attendere il peggio. Nelle prossime puntate americane, Bill sarà davvero infastidito dalla presenza dell'avvocato nella vita della Logan. Quest'ultima dimostrerà di provare davvero qualcosa per Walton e le sue sorelle non potranno non notarlo. E mentre Bill chiederà sostegno a Brooke e Ridge per riconquistare Katie, Carter si farà strada da solo.